Una tradizione di grani digitali qui alla Camera di Commercio di Foggia, insomma tante idee, cosa ne sta venendo fuori? Beh, certamente qui è il regno delle imprese ed era giusto che qui venissimo a presentare le nostre imprese. Sono imprese giovanili, imprese di ragazze di quinto superiore, che insieme ai partner ITS, Demaconsulting, Devoworld e tanti altri, hanno elaborato le loro start-up. Quindi le presentiamo qui a Casa delle Imprese, la Camera di Commercio ed è una grande gratificazione per la scuola e per i ragazzi. Però è necessario, mi lasci dire, l'importanza delle imprese nel sistema scolastico e l'importanza del sistema scolastico nell'impresa. Questo sistema duale è il futuro, è la realtà, non il futuro. Però qui dobbiamo ancora evidentemente incamminarci. Ecco, questo qui di in più sostanzialmente che il Pascal offre ai suoi alunni, c'è questo proprio, questo entrare nelle imprese, entrare nel mondo lavorativo, insomma. E' anche questo l'obiettivo della scuola? Beh, certo, perché lavorare a fianco delle imprese viene aiutato a capirle di più. E' probabilmente finito il quinto, ai Vrai qualche marcia in più. Tra l'altro molte imprese che si sono avvicinate hanno conosciuto i ragazzi e molte di queste imprese hanno richiesto il loro curricula. Cosa significa questo? Significa che il sistema duale funziona. Basta crederci.